Diventa ancora più stretta la collaborazione fra Soccorso Alpino e Forze Armate per la Sicurezza in Montagna. Va in questa direzione l'accordo siglato a Bolzano fra il Comando Truppe Alpine dell'Esercito e il Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale. Il documento punta a istituzionalizzare ed incrementare una collaborazione operativa che nei fatti è già molto efficace. Da decenni infatti le due realtà lavorano insieme per garantire la sicurezza in montagna. Adesso esiste anche un protocollo operativo formale che renderà questo lavoro nelle intenzioni ancora più efficace. Saranno rafforzate le collaborazioni nelle attività formative, addestrative ed operative in ambiente montano e sarà immediatamente avviato un piano di attivazione congiunto per il recupero di persone in pericolo disperse anche nell'ambito degli interventi di protezione civile disposti dalle prefetture e dagli enti locali.